Un concerto di un peso e un'importanza all'altezza di Fano arriva finalmente qui nella piazza. Arriva a Fano Francesco De Gregori che credo sia il cantautore in questo momento di tradizione, amato da tantissimi e arriva in piazza, una piazza che quest'anno ospiterà tre concerti importanti, ricordo il primo della Rossini il 17 che eseguirà le colonne sonore di Guerre Stellari, poi appunto De Gregori con il suo album di grandi successi suoi ma anche otto brani riprodotti da Bob Dylan e poi ci sarà Noah il 22 che inaugurerà la settimana del Fano Jazz, quindi è una piazza che torna con migliaia di posti, almeno 1200 posti a sedere e altri in piedi per tutti i cittadini, per tutti i turisti con un'organizzazione imponente a cui collabora in questo caso sfruttando la disponibilità di un palco che ci viene dato un pochino prima anche il privato e quindi un'ottima situazione per la città. Un momento di crescita che potrebbe essere, se le cose vanno bene come ci auguriamo, la ripartenza per utilizzare questo spazio tutti gli anni con eventi che sappiano attrarre un pubblico anche un pochino più da fuori. Inizieranno subito le prevendite e quindi noi sosterremo questa situazione perché la qualità unita alla popolarità dei personaggi sono quello che vogliamo fare in questa città, oltre al teatro di tradizione, alla liria che facciamo, al jazz però c'è anche il bisogno di andare a incontrare un reparto musicale di spettacolo di cui si sente il bisogno. Posti a disposizione e costi e prevendita naturalmente? Allora la piazza sarà strutturata con una parte di platea seduta e una parte in piedi, la platea seduta si dividerà in due settori, i posti chiaramente davanti verranno 50 euro più diritti di prevendita, quelli leggermente dietro verranno 40 euro più diritti di prevendita, i posti in piedi 30 euro più diritti di prevendita. I biglietti li potrete trovare in prevendita dal lunedì 13, lunedì questo, ci sarà in pratica un punto prevendita in corso Matteotti 162 dove c'era la vecchia storica sede del Cidischi & Soda al botteghino del teatro e nei circuiti Ticket One e Live Ticket.